La celebre presentatrice ha condiviso un momento di paura durante un'intervista su RTL 102.5 News. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. In modo visibilmente scosso, ha raccontato un recente incidente domestico accaduto di fronte agli speaker di RTL 102.5, con numerosi radioascoltatori in ascolto. Ha descritto il terribile momento in cui rischiò la vita prendendo una scossa di energia elettrica mentre maneggiava un tostapane con le mani umide. Cadendo a terra con voce tremante, ha rivelato che suo figlio chiamò immediatamente l'ambulanza, ma fortunatamente l'incidente non ebbe conseguenze gravi, solo un grande spavento. La milanese di 57 anni, Emanuela Folliero, volto noto di Rete 4 per 28 anni, ha rassicurato i fan ringraziandoli per la preoccupazione. Oltre ad essere stata modella, è stata l'annunciatrice ufficiale di Rete 4 fino a luglio 2018. Negli ultimi anni ha partecipato a diversi spot televisivi, evidenziando ora i rischi della folgorazione e sottolineando l'importanza di prestare attenzione nell'uso dei piccoli elettrodomestici. Fortunatamente, la sua vicenda si è conclusa bene, ma ha sollevato l'allarme sulla sicurezza domestica, invitando tutti a essere cauti nell'utilizzo di tali apparecchi. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.